Questo video è offerto da SevaProject, la nuova idea di documentario che oltre a fare informazione e intrattenimento rende il pianeta concretamente migliore piantando migliaia di alberi grazie al vostro supporto. Scopro di più su sevaproject.it Fanciulli, buongiorno e bentornati a Moscow Diaries Quarantine Limited Edition. Insomma, era un po' di tempo, circa un mese e mezzo, che non vi davo degli aggiornamenti su come sta andando l'evoluzione dell'epidemia su in Russia. Cosa fa il governo, cosa fa la gente, insomma, un po' di evoluzione, così so che voi aspettate questi aggiornamenti da parte mia. E il motivo per cui non ho più fatto aggiornamenti è perché vi avevo detto che non ne avrei più fatti dal momento che, essendo stata stabilita la quarantena, insomma, le misure di isolamento, anche se poi, vabbè, lasciamo a perdere, poi dopo vi racconto che cosa è successo. Comunque, stabilite quelle misure, in teoria l'evoluzione in Russia sarebbe stata molto simile a quella di tutti gli altri paesi in lockdown. Quindi stabilizzazione dei contagi, lenta decrescita, fase 2, grado alla riapertura, eccetera eccetera. Quello che stiamo vivendo noi in Italia adesso. Ma la realtà è che non è andato così. Ci sono stati tutta una serie di colpi di scena che, messi insieme anche una serie di circostanze internazionali particolarmente sfavorevoli, hanno fatto calare, a mio modo di vedere, un enorme punto interrogativo sul futuro della Russia nel medio e breve termine. E ho timore, temo, insomma, spero di sbagliarmi e vi dico la verità, che questo possa avere delle conseguenze piuttosto serie sul paese in cui vivo. Poi vediamo, magari ne usciranno meglio di quanto si possa immaginare. Comunque sia, per farvi capire di che cosa sto parlando, facciamo velocemente un riassunto delle puntate precedenti, molto velocemente. Se vi ricordate, a inizio marzo, mentre qui in Italia scoppiava il delirio assoluto per l'equidemia, in Russia ancora sì, e se ne parlava, se ne parlava parecchio, c'era il timore, c'erano i confini chiusi, chiusi in maniera precoce, e si sperava in qualche modo di tenerlo fuori, tenerlo lontano. Naturalmente in quel contesto tutti a dire che in realtà il virus in Russia c'era, ma il governo nascondeva i dati, eccetera eccetera, abbiamo parlato di questo argomento, abbiamo parlato di fake news, eccetera eccetera, la realtà è che il virus è semplicemente arrivato un po' dopo e ci è arrivato a gamba tesa. Al punto che a un certo punto Putin fece il suo discorso, di cui vi ho portato la traduzione in uno dei video precedenti, dove diceva fondamentalmente questo virus è inarrestabile, non possiamo farci niente, proclamiamo una settimana di quarantena, diciamo, l'aveva chiamata settimana non lavorativa, dove fondamentalmente si stava in vacanza, e in quella circostanza aveva fatto tutta una serie di promesse, di sussidi, sostegni, insomma in qualche modo, che lo Stato avrebbe aiutato chi avesse avuto un danno economico per via della sospensione delle attività lavorative, nonostante si trattasse di un breve lasso di tempo, al massimo una decina di giorni, poca roba. Noi ci eravamo fermati più o meno a questo punto, con Putin che ammette l'emergenza e diceva non vi preoccupate, teniamo duro, siamo forti, stiamo fermi a casa per un pochettino, poi tutto a posto, e si paventava questa ipotesi di scaricare un'applicazione attraverso cui tu dovevi chiedere il permesso al comune dove stavi per spostarti, lui ti dava il permesso, col QR code tu ti spostavi, se durante il tuo tragitto avessi incontrato un poliziotto, questo col suo iPad avrebbe scannerizzato il tuo QR code e verificato se stavi nella zona che avevi dichiarato o meno. Ora, partiamo proprio da questa storia del QR code, perché nel giro di due o tre giorni da che io feci quel video divenne poi effettivamente legge e questa applicazione effettivamente i russi ce l'hanno, la possono utilizzare, la devono utilizzare per scaricare questo QR code, per spostarsi, ma questa è solamente la teoria, perché quello che in apparenza sembrerebbe un ottimo ed efficace strumento di controllo della popolazione per evitare che vada troppo in giro si è rivelata in realtà l'ennesima farsa made in Russia, perché come vi ho detto in tantissimi video i russi fondamentalmente sono dei casinisti, non sono delle persone precise come magari possono essere altri popoli nordici, diciamo, sono molto molto simili a noi italiani, per cui fatta la legge ho trovato l'inghippo, cercano sempre il modo di aggirare le regole, cercano sempre il modo di fare i furbi, di trasgredire, questa è una cosa che hanno proprio loro come caratteristica nazionale ed è anche per questo che ci vogliamo bene a vicenda, perché ci capiamo fondamentalmente, siamo molto simili. Il risultato con questa cosa del QR code è stato molto simile a quello del fan ID durante i mondiali in Russia, vi ricordate che da un lato era sì un modo intelligente per far venire i tifosi e semplificare le cose, la realtà è che di fatto fu una sospensione dell'utilizzo dei visti temporanea, che però dirla così faceva scandalo e invece col fan ID aveva una sua parvenza di serietà. QR code è la stessa cosa, il QR code visto così sembra una cosa molto precisa e professionale, la realtà è che il QR code ti viene dato in automatico, puoi fare quello che vuoi, puoi andare dove vuoi, semplicemente prima di fare quello che ti gira per la testa devi ricordarti di prendere un QR code e poi mostrarlo in giro, ma un mio amico che sta a Mosca ha fatto l'esperimento con questa applicazione di prendere un QR code per andare a San Pietroburgo a farsi i fatti suoi e il QR code gli è stato dato, senza grossi problemi. Poi lui a San Pietroburgo non c'è andato, però intanto sto codice ce l'aveva. Inoltre anche questa quarantena è stata particolarmente soft, particolarmente leggera, tanto per cominciare perché il governo non ha dichiarato un ufficiale stato di emergenza, ma ha semplicemente imposto dei giorni non lavorativi. Questo vuol dire che tutti i negozi erano obbligati a stare chiusi, c'era la polizia che passava a chiudere i negozi nel centro di Mosca, mia moglie l'ha visto con i suoi occhi questo, la maggior parte delle fabbriche è stata chiusa, solamente i servizi essenziali mantenuti, eccetera, un po' simile a quello che è successo nel resto d'Europa, però non è che le persone erano obbligate a stare a casa, erano semplicemente caldamente invitate a farlo, in quanto, insomma, era più sicuro per loro. Ora, se noi avessimo detto una cosa così agli italiani, si sarebbe trasformato tutto in un'enorme vacanza della durata di un mese e mezzo, è vero o no? Ecco, in Russia andate esattamente allo stesso modo, quindi praticamente i russi questa quarantena l'hanno presa come una gigantesca vacanza. E quindi sì, è vero, magari la gente usciva di meno perché non potevi andare a lavoro, non c'era niente da comprare in giro, non c'era niente da fare, però una gita al parco te la fai, il tuo amico lo vai a trovare, i tuoi parenti, ma non ci vediamo da tanto tempo, tutti insieme, una bella cena tutti insieme, oppure vivi a Mosca, mai la famiglia nei Monti Urali, via, prendi un aereo, vagli a trovare, insomma, si è creato tutto questo movimento, anche perché poi la Russia ha chiuso i confini, ha bloccato tutti i voli verso l'estero, ma i voli interni sono rimasti e operativi a pieno regime. Ora magari a pieno regime no, sicuramente avranno ridotto la frequenza, non ho informazioni sui dati, però comunque era tranquillamente possibile spostarsi all'interno della Russia senza nessun tipo di controllo. Il caso limite di tutto questo è stato un amico di amici che è andato a trovare, ha approfittato di questa grande vacanza per andare a trovare la famiglia Kazan, va giù, insomma, stanno tutti insieme, poi si trovano con altri membri di altre famiglie, insomma, grande festa dei parenti, uno di questi, sfiga vuole, aveva il coronavirus, ricoverato, tampone positivo, eccetera eccetera, e ora tutte le altre persone che sono state con lui, non è che sono state messe in isolamento perché, insomma, le autorità si è andate a verificare, no, questo amico di amici di cui vi parlavo tranquillamente ha preso il suo aero due giorni dopo ed è tornato a Mosca senza che nessuno controllasse assolutamente niente. Ecco, questo esempio vi fa capire come sono andate le cose più o meno in Russia tra aprile e maggio e il risultato l'abbiamo visto tutti nei numeri ufficiali perché i contagi sono schizzati alle stelle. Per un sacco di tempo i russi sono andati avanti a botte di 8, 9, 10, 11 mila contagi nuovi al giorno che sono un'enormità e in brevissimo tempo sono passati dall'essere nei bassi posti della classifica per quel che riguarda il numero di casi ad essere il secondo paese al mondo per infetti dopo gli Stati Uniti. Sono stati solo di recente superati dal Brasile e nonostante questo grandissimo aumento dei contagi non sono state prese delle misure diverse. È stato semplicemente prorogato sempre di più, sempre a oltranza questo stato di giorni non lavorativi, ni rabocini di ei, così li chiamano in Russia. Questa cosa da un punto di vista politico è un po' una furbata diciamo nel senso che non essendoci un ufficiale stato di emergenza lo Stato può diciamo chiudere un occhio su quelli che sarebbero i suoi obblighi in termini di sostegno, sussidi eccetera eccetera e di fatto il peso economico di tutta questa faccenda sta principalmente sulle spalle dei russi che ovviamente sono particolarmente arrabbiati di questa situazione. A questo si aggiunge che c'è stata la netta percezione che il governo centrale di Putin non avesse le idee molto chiare su come gestire l'epidemia. Gran parte di questa percezione ha affondato le sue radici nel fatto che tutte le regioni hanno avuto autonomia totale di decisione su quel che riguarda la gestione dell'epidemia. Non c'è stata una linea di governo centrale bensì insomma una grossa autonomia data alle regioni. Questa cosa appunto è stata presa come una decisione che avrebbe portato alle seguenti conseguenze. Se le cose fanno bene giusto abbiamo fatto bene dare autonomia alle regioni se le cose vanno male è colpa delle regioni. Ecco questo è un pochettino il senso di questo provvedimento per quello che è stata la sua percezione. E a questo punto mi permetto di aggiungere una mia personale percezione quando ho visto un discorso di Putin di due settimane fa dove per la prima volta in tanti anni insomma seguo quello che dice un pochettino come si pone come comunica e lui è sempre una persona molto sicura di sé molto perentoria cioè non lascia spazio a interpretazioni molto e così punto e basta quando lui comunica poi ci volevo fare un video sulla comunicazione di Putin perché è molto interessante però questa volta no questa volta per la prima volta era abbastanza evidente che stava vacillando che non sapeva bene che pesci prendere o comunque sia che era palesemente in difficoltà ora io non voglio dire forse addirittura era spaventato aveva paura perché non sapeva come gestire la situazione ripeto questa è una mia percezione in base al linguaggio del corpo in base al modo in cui si è espresso in questo discorso che ho visto due settimane fa se non ricordo male e che vi dico la verità mi ha lasciato particolarmente stupito perché non è quello che ti aspetti da un personaggio come Putin e questa sensazione di insicurezza o diciamo di terreno che frana sotto i piedi che ha trasmesso Putin nel suo discorso non affonda le sue radici solamente nella crisi dell'epidemia ma anche in tutta una serie di altre cose che sono arrivate in concomitanza per esempio il crollo del prezzo del petrolio che in un'economia quasi interamente basata sugli idrocarburi come la Russia pone insomma una serie di problemi mica da ridere e poi appunto la chiusura dei confini è il blocco completo degli scambi di merci e persone con il resto del mondo perché questa cosa è un problema insomma la Russia ha bisogno di avere a che fare con dei partner che sia la Cina che sia l'Europa a seconda dei casi insomma non sono un paese che sta troppo bene da solo è un paese che conta molto sulle sue esportazioni specialmente di gas naturale petrolio eccetera eccetera per poi anche prendere ciò che non riesce a produrre nel suo territorio quindi in quel periodo sono usciti degli articoli anche sui giornali italiani che parlavano della tempesta perfetta che fa vacillare lo zar Putin insomma tutte queste cose qua e devo dirvi la verità questa è stata forse una delle prime volte in cui ho visto un articolo parlare male della Russia e dire e beh sì e stavolta ci hanno ragione nel senso che le cose stanno andando realmente così dovete immaginarvi la Russia come un paese dove tantissime persone specialmente fuori dalle città nelle campagne vivono di sussistenza vivono la giornata nel momento in cui viene decretato l'obbligo di chiusura di certe attività e lo Stato non interviene con dei sussidi degli ammortizzatori sociali o quello che volete voi allora insomma i problemi iniziano ad essere tangibili davvero insomma concreti aggiungici la crisi del petrolio aggiungici la crisi valutare aggiungici la crisi dell'esportazione insomma un casino veramente un delirio e questo naturalmente è vero per tutto il mondo perché tutti quanti stiamo navigando in acque molto molto tempestose però la Russia in particolare modo specie per questa cosa legata al prezzo del petrolio si trova credo in acque più tempestose di altri paesi e in ultima analisi credo che sia proprio questo terrore diciamo di un vero e proprio tracollo economico ad essere responsabile dell'ultimo grande colpo di scena che è successo tipo due giorni fa che cosa è successo due giorni fa altro discorso di Putin ma questa volta l'atteggiamento era completamente cambiato tutta quella insicurezza quei timori che si percepivano molto nitidamente due settimane prima sono completamente spariti all'improvviso Putin è tornato quello di sempre ma anzi più convinto di prima proclama con grande entusiasmo che il picco dell'epidemia è finalmente passato che ci si avvicina verso la risoluzione che possiamo iniziare a pianificare di riaprire le attività recuperare le cose che abbiamo perso soprattutto la parata del 9 maggio la parata del 9 maggio insomma ce l'hanno in testa perché ovviamente era il 75esimo anniversario fossero stati 74 era un conto 76 un altro ma il 75 ragazzi cioè è troppo importante e intendiamoci lo capisco non vuole essere una critica anzi lo comprendo perfettamente ma proprio in relazione alla parata Putin ha ufficialmente dichiarato la data del recupero della parata militare che sarà il 24 giugno data scelta non a caso perché nel lontano 1945 la guerra è finita il 9 maggio quando a Berlino i tedeschi firmarono la resa incondizionata però tempo che i soldati tornarono in Russia la parata militare della vittoria venne fatta il 24 giugno quindi in qualche modo si casca in piedi l'anniversario è anche più importante se vogliamo di quello del 9 maggio e Putin naturalmente ha voluto mettere i puntini sulle i perché come voi ben sapete dopo la parata militare c'è la marcia del reggimento degli immortali quindi questo fiume di persone milioni di persone in piazza per tutte le strade principali delle città russe insomma che sfilano con le immagini dei caduti insomma l'avete visto nel mio video sul Dienpo Biedi dell'anno scorso però logicamente è impensabile fare una cosa così in così breve tempo insomma parliamo veramente tra meno di un mese stiamo parlando e ancora oggi mentre giro il video insomma i dati di oggi ce li ho qua sono più 8500 casi oggi non è che da qua il 24 giugno si risolve tutto quanto comunque sia la parata verrà fatta senza la marcia senza il grande assembramento di persone e qui arriva l'altra sorpresa perché Putin ha anche annunciato quando verrà recuperata questa gigantesca marcia questa gigantesca processione e la data scelta è il 26 luglio cioè il mese dopo ora per farvi capire cosa significa questo evento per chi non ha visto il video dovete capire che in confronto Woodstock è una cena tra quattro amici congiunti peraltro perché lì stiamo parlando di milioni di persone in strada tutte ammassate una sull'altra che camminano altro che un metro o due metri di distanza cioè stiamo parlando dell'assembramento degli assembramenti più di quello forse c'è solamente il kumbamela in India e se pensiamo che in Europa paesi che sono in condizioni epidemiologiche decisamente migliore hanno alcuni uffici che sono chiusi fino a dicembre non hanno un orizzonte temporale neanche per iniziare eventi concerti perlomeno fino ad agosto non si sa neanche ora come verrà gestito il turismo così pensare che in Russia con la situazione che hanno adesso numeri ufficiali e non stiamo parlando di numeri insomma nascosti mentre loro ne dichiarano altri no questi sono i numeri che dichiara il governo quelli pubblici di dominio pubblico e con questi numeri pensare di fare tra due mesi la marcia dell'esercito degli immortali mi sembra una cosa quantomeno buh strana e invece no quindi direi che ancora una volta si può dire che la Russia si conferma nella sua caratteristica principale che ne rappresenta da un lato il grande fascino ma dall'altro anche il grande problema cioè un paese dalle grandi grandi contraddizioni interne tutto questo accade in un paese che è tutt'altro dell'emergenza epidemiologica anzi c'è dentro fino al collo e non parliamo delle condizioni degli ospedali delle condizioni dei medici delle condizioni di lavoro anche in relazione ai dispositivi di protezione individuale perché quello è stato un po' il dramma di tutti gli ospedali in Europa che non c'erano abbastanza mascherine abbastanza camici quello che è e figuratevi se non è così in Russia che ha una sanità che generalmente è messa peggio della media delle sanità europee ovviamente questo problema ce l'hanno avuto anche loro molto accentuato sono morti molti medici per via del contagio e questa cosa ha portato anche ad alcuni casi un po' più estremi penso per esempio al caso di Krasnoyarsk l'altro a Varanej Voronej non mi ricordo mai qual è l'accento in quella città porca miseria comunque sia un altro non mi ricordo dove dove ci sono stati dei medici che sono morti cadendo giù dalla finestra ora la stampa internazionale dice questi medici sono stati defenestrati perché si sono ribellati hanno fatto presente le lacune del sistema a me sembra non lo so qual è la verità perché ovviamente non ho la documentazione non ho le informazioni per dire dove sia la verità però mi sembra molto improbabile perché tutta l'opinione pubblica è ampiamente informata di quello che accade negli ospedali insomma della situazione critica per cui non è che se un medico dice ragazzi la situazione è critica lo buttano giù dalla finestra probabilmente ci sono stati degli attriti personali molto forti tra queste persone e i dirigenti dei rispettivi ospedali che sono poi finiti in una pessima lite personale che ha avuto poi un esito tragico ecco questo mi sembra un po' più probabile anche conoscendo il temperamento insomma medio che possono avere i russi quando si scaldano gli animi però ripeto queste sono solamente mie sensazioni non ho nessuna informazione né in un senso né in un altro non mi voglio sbilanciare vi menziono semplicemente questi episodi perché sono indice di un clima di grande tensione sia dal punto di vista tecnico quindi insomma dei sanitari che dal punto di vista dell'opinione pubblica della popolazione che comunque nonostante tutto non essendoci insomma un divieto vero e proprio così severo come sembra continuano a incontrarsi vedersi insomma a essere in una sorta di quarantena vacanziera chiamiamola così ci sono poi dei grandissimi paradossi in relazione al controllo di questo QR code che viene fatto tipicamente all'ingresso magari delle stazioni della metropolitana dove c'è tutta la gente in coda fuori magari distanziati il poliziotto che sbarra l'ingresso fa controllare il QR la gente perde un sacco di tempo ma poi dentro la metropolitana stanno tutti insieme quindi capite che è tutto un enorme controsenso un enorme teatrino burocratico che insomma sembra quasi di essere tornati ai tempi dell'unione sovietica per certi versi insomma questa è la situazione attuale in Russia non vi nascondo di essere un po' preoccupato per le persone a cui voglio bene per gli amici per mia moglie in primi se ci mancherebbe e in generale per un paese a cui voi come ben sapete voglio bene ecco insomma vederlo insomma affrontare una situazione difficile così come mi ha fatto male in questi mesi vedere l'Italia passare quello che ha passato vedere quello che sta passando adesso la Russia mi dispiace mi dispiace soprattutto perché mi accorgo che non la stanno affrontando secondo me nel migliore dei modi però via cerchiamo di essere positivi speriamo che insomma con l'arrivo dell'estate le cose vadano migliorando che ci sia un miglioramento dell'epidemia anche da loro e che i confini possano essere riaperti che possiamo tornare tutti sia noi che Russia sia fare le nostre vite normali insomma questo insomma è il pensiero più importante che mi sento di condividere alla fine di questo video perché ripeto italiani francesi tedeschi russi quello che è siamo tutti quanti esseri umani siamo tutti fratelli siamo nella stessa barca e prima usciremo da questo incubo e meglio è ecco e insomma questo è quanto Moscow Diaries Quarantine Limited Edition finisce qua spero di non dover fare ulteriori aggiornamenti con nuovi colpi di scena come quelli di cui vi ho parlato in questo video e spero soprattutto di poter tornare a fare i Moscow Diaries veri quelli che ci piacciono tanto quelli che è da sono 3-4 mesi che non ne faccio più uno molti me lo scrivono su Instagram ma quando riprendono i Moscow Diaries e fatemi tornare a Mosca quando torneremo lassù torneranno anche i Moscow Diaries normali io personalmente non vedo l'ora ciao cari